Contatto visivo con un elicottero nemico. Elicottero nemico individuato. Attenzione, l'obiettivo delta è in mano nostra. Questo è il nostro obiettivo. Contatto con un soldato nemico. Contatto con un soldato nemico. Contatto con un soldato nemico. Contattiamo questo obiettivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uomini, proteggete l'obiettivo. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo. Grazie a tutti. Abbiamo il controllo dell'obiettivo alfa. Mi serve un passaggio. Elicottero nemico localizzato. Ho individuato un elicottero nemico. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo. Soldato nemico, contatto visivo. Contatto con un soldato nemico. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo. Ecco fatto, ti ho resistito. Grazie, amico. Concentriamoci sulla difesa di questo obiettivo. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo. 탈' L'obiettivo Alba è stato conquistato. Questo è l'obiettivo da difendere. Abbiamo appena conquistato l'obiettivo Delta. C'è un soldato nemico con l'anticarro. Sono individuato. Sì, ho localizzato un veicolo nemico. Pare che ci sia un elicottero nemico. A sud della tua posizione. Vedo un elicottero nemico. Difensiamo l'obiettivo. Verso l'obiettivo. Bravo. Verso l'obiettivo. Questa è il nostro donsatio. Dato con anticarro localizzato. L'unitivo bravo è neutralizzato. Attenzione, l'unitivo bravo è in mano nostra. C'è un elicottero. L'ho localizzato. Sì, ho localizzato un elicottero nemico. Ho localizzato un elicottero nemico. Vedo un elicottero nemico. Giurato un elicottero.